Abbiamo fatto il punto della situazione con tutti, da nord a sud, era presente anche il vertice del sindacato UGL, in cui abbiamo confermato un accordo di reciproca, lunga e proficua collaborazione, sia in Italia che all'estero, e per la Lega è una novità assoluta associare una proposta politica a una proposta sindacale che entrerà nel merito del tema lavoro, che è l'emergenza vera, nazionale, al di là del più solido e del più solido di qualcuno, quindi il programma, le riforme e le proposte sul tema lavoro, giovani, legge fornero, saranno dettagliate alla virgola e saranno presentate entro pochi giorni agli alleati come proposta e come offerta, ripeto, assolutamente precisa, dettagliata e puntigliosa, entrate, uscite, minimo salariale, età pensionabile, riforma della scuola, riforma dell'università e tutto quello che riguarda il mondo dei giovani e del lavoro, quindi è uno di quegli apporti esterni di cui parlavo e ricordo che UGL ha più di 160 sedi a livello nazionale e territoriale distribuite tra nord e sud e quindi è una collaborazione che penso sarà assolutamente utile e positiva. Grazie. 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 Grazie.